Salve signora Caterina, sono Iana, piacere. Ecco, la signorina che c'è nel telefonino. Sì, io e la mia collega, siamo in due. Quindi andate a vedere il colore di un paziente per vedere se ti piace, giusto? Sì, andiamo. No, ma voi potete parlare. Sì. Noi siamo quelli che facciamo parlare. Sì, vi do il diritto. Ho fatto in Italia un impianto presso un dentista che mi conosce da sempre, che mi ha sempre seguito, però anche lì è stato abbastanza problematico perché è stato proprio con l'anestesia un minimo. Sì. 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 Ciao. Sì. 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 Sono qua per mettere i definitivi. Dove ti trovi? Come se mi scordi come? Come se mi pronuncia bene. Questo è il mio secondo viaggio e sto facendo anche l'estetico. La piscina bellissima. Ci troviamo al poligono di tiro di Kicinau, mezz'ora dalla città e questa mattina hanno impiantato degli definitivi, devo dire che molto molto comodi e perfetti, number one come materiale, come lavoro. Eccoci qui a due giorni dalla partenza, impianti definitivi montati questa mattina, perfetti, non c'è che dire, stiamo facendo una partita qui da calcetto dopo circa due anni che non gioco più, i complimenti vanno al dottor Michele in gamba sia nel lavoro suo che nel calcio. Che vi posso dire? Io mi sono trovato benissimo, consiglio l'esperienza, è stata positiva e provare per credere. Lo staff è perfetto, l'ambiente è idem, sicurezza totale. Mancano 48 ore alla partenza e mi dispiace perché automaticamente tornare in Italia e tornare alla vita quotidiana è un po' pesante. Un saluto per il momento, a presto al prossimo video!